Ha senso comprare preassemblati nel 2024? Ha senso comprare un endeld in questo momento? Ha senso avere senso? Queste e altre domande troveranno senso invece nell'episodio nuovo del Q&A di agosto Un'edizione abbastanza speciale con alcune delle domande più specifiche che vi abbiate mai fatto Grazie, lasciatemi altre domande giù nei commenti, like, commenti e iscrizione se siete sempre graditi Iniziamo A quanti anni hai montato il primo computer? Ehm... buona domanda Allora, in realtà il primo computer io non l'ho assemblato in giovine età come hanno avuto la fortuna alcuni di voi Il mio primo computer l'ho comprato e fu un Vibox terribile, terrificante quando avevo 15 anni, più o meno Il mio primo PC con 4460 di Intel, un i5 che al tempo, devo dire, era discreto Una 760 e poi una 1060, l'ho assemblato all'incirca 17 anni Le prime modifiche da un PC le ho fatte intorno ai 15-16 anni, giù di lì Ad ogni modo, un'arte che oggi devo dire è molto semplice, sia nella reperibilità dei pezzi che Effettivamente nell'assemblaggio, tutto è molto molto più semplice Ai tempi dovevi fare dei patti di sangue col tuo PC per colpa dell'input-output brutto-cattivo Fatto di lamiera violenta e super aggressiva che ti tagliava le mani, facevi un patto Lì lasciavi il DNA nei PC Mario invece mi chiede di quanti capelli io disponga Sicuramente meno della prima volta che ho assemblato un PC Probabilmente intorno ai 97.863 64 C'è uno qua sotto che è un po' isolato Siete specifici oggi con le domande? Di che veicolo a quattro ruote disponi? Allora, se non consideriamo il carretto che avevo da bambino per scendere nelle collinette di campagna Dispongo di un Honda Civic 2018, decima edizione, modello Hatchback, colore grigio metallizzato Navi Executive, ha il nome un po' lungo Versione base, ha solo la verniciatura che è custom E qualche piccola da danno in cuia Personale Ma per il resto sta molto bene, adoro l'Honda Civic Un po' lunga per Milano, devo essere onesto Perché già è un po' complicato Però per il resto, gran veicolo Molto divertente da guidare Nelle rotonde puoi andare alla velocità che vuoi Tanto va comunque A prescindere Un po' difficile da gestire in certi casi Ma macchina veramente fantastica La adoro Che superiore hai fatto? Vabbè, vi dico un po' tutto il mio percorso scolaresco, scolaretto Alle superiori ho fatto il classico Quello con greco e latino Una gran perda di tempo, devo essere onesto Però la mia professoressa di fisica mi piaceva Non come individuo, ma come professoressa E per il resto poi ho intrapreso una carriera di mediazione linguistica L12 applicata all'antropologia Quindi c'era tipo una porzione di esami di antropologia, economia aziendale, economia geopolitica, sociologia, antropologia stessa Declinata in antropologia sociale, antropologia culturale, antropologia linguistica, antropologia sessuale Un po' di cose Infatti ero super informato su quella storia della pugile di recente che è uscita durante le Olimpiadi Comunque, ad ogni modo, sì, ho un po' di competenze qua e là di sociologia, sociopolitica, cose così, no? Parlo quattro lingue, tra cui il russo Parlo, per modo di dire Me la cavo come un bambino di otto anni, diciamo Questo è stato il mio... Cioè, non ho nessuna competenza relativa a questo mondo erogata da un ente o da un'istituzione Ecco, se questa era la domanda di fondo Ho fatto completamente altro Non so parlare, nonostante il mio incredibile numero di anni accademici in ambito linguistico E' umanistico E sì Cambieranno mai la forma delle componenti dei PC? Allora, cambiare la forma delle componenti del PC è un casino Per quale motivo? Semplicemente perché, ragazzi, prima di tutto Non so se ve ne siete accorti Ma negli ultimi anni, soprattutto l'Unione Europea, è molto aggressiva sul concetto Di creare degli standard universalmente validi E che si protraggano nel tempo in maniera continuativa Evitando di creare quindi i waste, spazzatura elettronica Che effettivamente possano danneggiare il mondo Fare componenti di nuove forme vuol dire creare nuovi standard Che non siano eventualmente retrocompatibili con quelli precedenti E questo crea tanta spazzatura elettronica Ed è un problema A tal proposito, qualche tempo fa abbiamo parlato di un nuovo possibile formato di RAM Chiamato CAM2, C-A-M-M-2 Che effettivamente sarebbe universale tra laptop, desktop, server e tutti quanti Permettendo interscambiabilità e riducendo quindi la quantità di spazzatura Che dovrebbe circolare sul pianeta in termini di RAM Queste sono già delle prime soluzioni Principalmente se cambieranno forma di qualcosa Sarà principalmente in questo contesto Per quanto riguarda gli standard, tipo dove metti le viti Sono molto sicuro che rimarranno uguali ancora per molto Per questo specifico motivo Il margine di manovra per cambiare le cose l'abbiamo avuto Non l'abbiamo fatto Gli standard funzionano Perché cambiarli? Prossima domanda è Ha senso comprare un preassemblato? Beh, ho modo di rispondermi molto 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 efficacemente a questa domanda Perché di recente ho fatto uno sponsor per un preassemblato L'avrete visto in qualche video Era un preassemblato di Next NextHS Hanno mandato qui un PC da sponsorizzare Che era fatto completamente bianco Con componenti rispettabili Nel senso ben bilanciate tra di loro E quindi ho accettato che il prodotto potesse venire sponsorizzato Entro certi limiti Nel senso che ho scritto io gli script Ho accettato solo modifiche tipo dire RTX 4080 anziché dire 4080 Super e basta Modifiche più di tecnicismi che di effettivo contenuto Come gestisco un po' tutti gli sponsor alla fine Se vi interessa questo argomento fatemelo sapere Comunque per il resto Preassemblati Allora, secondo me ha senso comprare i preassemblati Nel momento in cui si è una tipologia di individui Che magari non vuole assemblare Per me assemblare è una cosa divertentissima Lo faccio in scala e lo vedete Assemblo tantissimi in PC Ve li porto qua sul canale e cose così È un'operazione complicata Diciamo che se non lo facessi per lavoro Sicuramente sarebbe più rilassante Che doverlo fare entro certe tempistiche Dovendosi inquadrare Dovendo testare Spiegare delle cose Chiaramente la parte amatoriale Diciamo come la potreste fare voi Semplicemente seguendo dei consigli E poi assemblandolo come volete È molto migliore È un po' come portare un gioco in stream E magari giocarci da soli Sono due esperienze completamente diverse E ve lo può confermare qualsiasi streamer Sono due mondi opposti Nonostante il contesto sia lo stesso Un preassemblato secondo me È utile per chi abbia paura di Assemblare ovviamente Per chi abbia poco tempo per farlo Non pensi di avere le competenze in generale Anche se vi dico che ci sono una marea di tutorial E tutti quanti abbiamo imparato sul campo Facendo danni O non facendoli proprio Semplicemente seguendo dei tutorial Al giorno d'oggi assemblare è molto semplice I preassemblati vanno bene da comprare In questo contesto Però chiaramente c'è anche da dire Che bisogna stare attenti a diverse cose 1. Coerenza delle componenti Questa è una cosa che sottolineo molto spesso Se il vostro pc sembra un po' un Frankenstein Cioè se ci sono pezzi bianchi Pezzi neri RAM che magari sembrano un pochettino economiche Cose così Molto probabilmente succede quella cosa Che fanno un po' di venditori Cioè di darvi dei fondi di magazzino per massimizzare il margino Per togliersi qualcosa dal groppone Succede Ovviamente questo non vuol dire che tutti i venditori Siano degli infami che vogliono fare questo Metto le mani avanti Però effettivamente può capitare Che ci siano dei rivenditori Specialmente tra quelli magari un po' più piccoli Che debbano togliersi di mezzo un po' di roba E almeno esperto Diano giù qualcosina del genere Successe anche a me Quando un venditore Nella mia totale esperienza Mi vendette un Technoware Da 650 watt Che poi esplose In tempi moderni si spera che una cosa del genere Possa non succedere Però al tempo stesso Diciamo che dovete starci attenti Altri fattori sono La cura Nella gestione dei cavi Cioè di tutto quanto il passaggio Se è pulito Se è fatto bene Se è lasciato a se stesso Probabilmente stanno cercando semplicemente Di tirarvi sul pc Nel tempo minore possibile Per spillarvi i soldi E infine ragazzi Una cosa importante Secondo me Il bilanciamento delle componenti Non accettate mai Il primo preventivo Fatevelo controllare Da un vostro amico smanettone Scrivete sui forum Controllate le recensioni Delle componenti Che vi listano nel preventivo Non comprate mai Senza un preventivo Se qualcosa non va bene Per il vostro utilizzo specifico Pensate che possa essere meglio Anche spendendo di più Fatevelo cambiare Insomma Imponetevi Il preassemblato va bene Nel concetto di Farselo assemblare da un altro Ma non fate che La persona Faccia il vostro computer Al 100% A meno che non siate del tutto Privi di amici smanettoni Di capacità di cercare Nei forum E di leggere delle recensioni Allora in quel caso Potete affidarvi al 100% A loro Però se avete un minimo di tempo E di voglia di informarvi Magari non volete comunque assemblare Sicuramente potete bilanciare Il meglio dei due modi Quindi ha senso comprare un preassemblato Sì Però dovete fare grossa attenzione E personalmente Imporvi un pochettino Nel processo di ricerca E scelta E comprensione Di quello che state comprando Ma questo vale per qualsiasi cosa Quanta figa attira Un pc come il tuo Dici quello Ah figlio mio Quanta figa attira quello Dici il super liquidator Ma sei serio Cioè sei serio Ma secondo te un pc attira la figa Ma in che bondo abbiamo Mica siamo nel 2024 Che le donne interessano i pc Ma dai ma per favore Lei mi hai vista una donna interessata ai pc Ripeti con me L'unico vero modo Di attrarre una donna E sapere a memoria Tutte le battute Di Shrek 1 Shrek 2 Shrek 3 Di fila Senza sbagliare No hitrun Any percentage Speedrun Ricordati Ricordati questo E nella vita avrai successo Sto leggendo molto da vicino Le vostre domande Sono mio poi ok Pensi che intel abbia gestito bene Il casino delle cpu intel Ma questa domanda Non me la avevate già fatta Secondo me Come dicevo nell'altro video Raga Servirà tanto Tanto tempo Prima che intel Si riprenda Dalla nomea negativa Di questa cosa Cioè io penso che anche prodotti Che non hanno niente a che fare Con questa situazione di crash Da parte di intel Avranno problemi Ve lo dico Molto molto tranquillamente Ha senso comprare Un endeld Oggi Ha 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 Secondo me Ni Nel senso Se hai poche pretese Sicuramente ci sono Delle opzioni del mercato Che sono molto valide Dipende da quello che giochi Se giochi soltanto a indie Ancora vanno benissimo Le endeld Che ci sono sul mercato attuale Però Il prossimo arrivo Di Strix Point E Strixalo Nel mondo del mobile Secondo me Entro la fine dell'anno Primo trimestre del 2025 Ci permetterà di accedere A un po' di prodottini Veramente interessanti Ovviamente La cosa migliore In questo momento Sarebbe Tenersi la scimmia da parte E aspettare l'arrivo Delle future eredi Delle attuali endeld Cioè Non le versioni di mezzo Non la Lenovo Legion Go Lite Che abbiamo visto Qualche MTN fa Non Prodotti come La Rogali X Queste versioni intermediari La Steam Deck OLED No Aspettate la Steam Deck 2 Aspettate la Rogali 2 La Legion Go 2 Adesso Ci sarà il cambio generazionale Dei processori Degli SOC E questo sarà Veramente Secondo me Un salto importante Che ci farà capire Il reale potenziale Dell'endeld Più tutte le migliorie Constatate con Per esempio A Rogali X In termini di batteria Di porte Di posizionamenti Di dissipazione Di tutte queste cose Ovviamente Quindi Ha senso? Ni Più no che sì Quali sono i tuoi obiettivi Professionali Per il 2025? Raga Ma che domande Da professionisti Che fate Mamma mia Ma chi fi paga? Io passo dopo A ritirare i soldi Mi raccomando E allora Obiettivi professionali Per il 2025 Vorrei allargare il team Vorrei una persona Che ragioni Come me Nei confronti di Morden Tech So che questo è impossibile Perché è la mia creatura L'ho creato io Sono il proprietario Però di per sé Mi piacerebbe tanto Avere una persona Che si entusiasmi Come mi entusiasmo io Per Morden Tech E mi trovi delle idee Veramente Veramente ferrate Sarei proprio disposto Ad averlo fisso Con me Come assistente Come tester Cosa così Secondo me sarebbe figo Cioè nel senso Vorrei una persona Che ci mettiamo uno a uno E creiamo contenuti Non che lui Deva partecipare ai contenuti Però matto che Insomma Ragioni come me Ecco Su Morden Tech Me due Praticamente Non per dire che io Sia meglio di altri Però nel senso Per farvi capire il concetto Con più idee E più intelligente di me però E più capelli a quanto pare Perché mi chiedete sempre dei capelli Non sto diventando calvo raga Sono solo pelato filati Che è più o meno il senso dei calvizi Però questo è un altro discorso Smettiamo di parlare dei miei capelli Tornano i video sulle tastiere Ragazzi Tastiere 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 Il problema delle tastiere Qual è? È che in Italia Siete pochi appassionati Siamo pochi appassionati Nel senso per me Le tastiere sono state Un periodo molto divertente In cui ho aiutato Secondo me Un pochettino A diffondere questa passione Ho visto tanto interesse Da parte iniziale delle persone Però poi siamo arrivati Ad un punto In cui secondo me Per esempio C'è stato proprio Un passaggio totale Da prodotti mediocri Che era difficile reperire A tanti prodotti Piuttosto buoni Che invece sono facilmente Disponibili su Amazon Sui siti di Haco Di EpoMaker Ci sono tanti prodotti in giro Corre ha molta più disponibilità Non fa più cavi Fa anche switch e altre cose Cioè nel senso Secondo me Ormai il mercato È piuttosto maturo Certo se parliamo ancora Del contesto della nicchia Del berbono in preorder Del group buy Che ci mette due anni a arrivare E cose così Siamo sempre alla stessa situazione Però per le persone normali Senza malattie particolari Effettivamente Secondo me Il mercato Ora è così maturo Che più o meno Cade in piedi O un po' ovunque Cioè quando ho iniziato io Con le tastiere Con l'Italia C'era l'Haco 3061S Tokyo Ragazzi come scelta massima Di qualità Oggi ci abbiate le ACR Di Haco Con lo switch pre lubrificato Gli stabilizzatori Potete sceglierne 47 Già da loro Cioè è un'altra storia ragazzi Il mercato è migliorato Decisamente Anche i brand grossi Hanno capito questa wave E la stanno cavalcando Cioè ci sta Rogue ha lanciato la Azov E sta arrivando La seconda versione extreme Quella col carbonio Cioè raga Diciamocelo chiaramente È molto meglio il mercato ora Non serve che io spinga Tanto sulle tastiere Più che altro perché Richiedono tanto impegno In termini di tempo E io devo anche valutare Il riscontro Cioè devo soddisfare Un pubblico ampio ora E quindi devo essere sicuro Che le tastiere Interessino a tanti Che non sia una roba Che faccio per dieci Siamo una grande platea Ora di tanti amici Da qui alle 6.000 Quanto sarà il divario prestazionale Delle schede video? Praticamente quindi Quanta differenza ci sarà Magari nei prossimi 5 anni Tra la 4.090 attuale E le top di gamma di allora Mettiamola così la domanda Allora Secondo me Giustamente Deve esserci almeno Un 70% composito Tra una generazione e l'altra Nel senso che Se la 4.070 Performa 100 fps In 4K Sull'ultimo gioco Prima ancora Del DLSS Ovviamente La 5.090 Dovrebbe farne 1.070 Prima ancora Il più 70% Del più 70% Del più 70% Dell'attuale prestazione Della 4.090 In maniera composita E quindi dovrebbe avere Delle prestazioni Da 8K Nativo Fondamentalmente Cioè i giochi attuali Dovrebbero poter girare Tranquillamente in 8K Su una scheda del genere Ma proprio senza DLSS O con un 4K A 240 fps Prima del DLSS Però E questa ragazzi Era l'ultima domanda Per questo Q&A Ovviamente fatemene altre Sotto a questo video Che le raduno Per i prossimi di settembre Fatemi sapere Che cosa ne pensate Giù nei commenti Qual è stata la vostra Domanda preferita Fatemene altre Come dicevo Noi ci vediamo Nel prossimo video Voi state su Marladec Sanusa Noi ci vediamo